No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no e lo sposti che mi rinforzi voglio volta qui sui posti i tempi famiglieri a ragazzine fanno l'italia media dei colossi con la scuola media mentre scrivevano al bancholo dalla sedia ma la sera mi disegnavo in modo la mia maniera lo mostravo a chi girava sulla schiena e più non esisto ma più più era e non intanto la musica più vera se tu sei la risposta la domanda qual è se è solo la risposta di un problema che non c'è che non c'è se è che non c'è se tu sei la risposta la domanda qual è se è solo la risposta di un problema e poi sui voglio non superare voglio non superare guardo la musica super, super, super voglio non superare voglio non superare guardo la musica guardo la musica super, super, super questo è di fatto non superare è giù che 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 è giù per amica foro non superare ancora più quando la musica ti super 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 a